Ciao, sono Francesco Pontoni e sono un audioprotesista. La nostra realtà nasce nel 1989 grazie alla visione di mio padre. Insoddisfatto dell'approccio troppo commerciale del settore, decise di creare qualcosa di diverso, un centro acustico che mettesse al primo posto le persone e le loro reali esigenze uditive. Da allora ne è passata di storia, ma il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, ridare il piacere dell'ascolto a chiunque ne abbia bisogno. Per questo, seguendo gli stessi principi, nel 2017 abbiamo creato Clarivox, il primo metodo in Italia che adatta le migliori tecnologie per l'udito alle esigenze personali. Cosa troverai su questa pagina? Troverai tante informazioni legate all'udito, agli apparecchi acustici, avrai la possibilità di conoscere i nostri audioprotesisti, tutte le novità relative a questo mondo e anche tante testimonianze. Quindi, se sei anche tu alla ricerca di una soluzione per il tuo problema di udito o per quello di un tuo caro, seguici, sei nel posto giusto.